Benvenuti a questo tutorial, io sono Max Moccia di Cambio Networks, oggi vi parlerò di CNReach. Qui alla mia destra abbiamo un apparato CNReach già preconfigurato e alimentato che farà da Endpoint e alla mia sinistra abbiamo invece un apparato configurato come Access Point. Lo scopo di questo video è farvi vedere come è possibile configurare e remotizzare dei contatti sfruttando una connessione punto punto effettuata da un CNReach. Prima di tutto andiamo a collegare il nostro PC a un apparato CNReach attraverso la porta Ethernet. Ecco fatto, intanto si vede che dai LED il link tra gli apparati Access Point e Endpoint risulta già essere attivo in quanto sia il LED numero 1 del link che quello di ricezione sono verdi quindi attivi. E c'è delle attività di collegamento radio. Eccoci qua, innanzitutto ci colleghiamo a una delle radio, in questo caso siamo collegati all'Endpoint e entriamo all'interno del menu principale. Quindi nella prima pagina ci appariranno le informazioni generali CNReach, quindi con le versioni software, radio e sistema operativo utilizzati. Notate che in prima battuta i nostri CNReach devono aver caricato il menu del Wire Replacement che permette di pilotare da remoto dei contatti analogici o digitali. Questo menu è composto da alcune configurazioni, alcune regole che si possono abilitare, dallo status del contatto e da alcuni file di backup. Oltretutto il modulo radio ha le configurazioni di IO, quindi con le configurazioni di canale da poter fare, in base alla tipologia di contatti che vengono gestiti. Contatti che sono mappati all'interno di una ben definita mappa, quindi quali sono i contatti, le masse e le configurazioni che dovrete fare nei PIN per poter effettuare una determinata funzionalità di contatto IO è specificato all'interno di questa matrice. Ovviamente una volta effettuata questa attività si può procedere con il collegare i dispositivi. Ricordate che per poter sfruttare la remotizzazione deve essere attivo a questo menu che può essere attivato soltanto se viene caricato all'interno del CNReach il modulo di sistema operativo che abilita questo sottomenu e che potete scaricare dal sito web di supporto di Cambio Networks. Una volta uploadato, applicato e salvato, al reboot l'apparato apparirà con questo menu che in precedenza non era disponibile. Ora quello che andremo a fare oggi è una configurazione di questo tipo. Fondamentalmente abbiamo un access point e una configurazione punto punto dove avremo un access point radio 1 su cui viene collegato tra il PIN 6 e il PIN 4 un utilizzatore, quindi fondamentalmente una lampada alimentata che viene accesa e spenta da remoto tramite un contatto pulito che viene pilotato attraverso la connessione radio direttamente tramite il CNReach. Le configurazioni quindi che dovremmo fare saranno legate all'interazione tra il contatto pulito configurato sull'end point e ha come destinazione in uscita il PIN OUT della IO OUT del access point che sta dall'altra parte su cui è collegata la lampada alimentata. Dal lato invece dell'end point dovremmo abilitare la funzionalità di Digital Input Pull Up Resistor in modo da poter abilitare il contatto. Ora una volta effettuata questa procedura si può andare a configurare. E quindi lato endpoint quindi lato contatto avremo esclusivamente da dover abilitare in corrispondenza del IO numero 8 il Pool Resistor Digital Input Attivo che sia in modo tale da poter pilotare quell'input in IO. Se ci colleghiamo invece al modulo access point avremo invece una configurazione fatta a livello di wired replacement. e in questo caso infatti come vedete è stata configurata secondo l'esempio l'interazione tra la sorgente del contatto e l'uscita pilotata dove c'è la lampada che deve accendersi e spegnersi. Oltre a questo tipo di configurazioni lato wired replacement quindi dove c'è il carico si può settare nella parte IO in corrispondenza del IO 5 settings quale sia il digital output safety action a default vale a dire che cosa debba accadere qualora venga persa la connessione radio radio perché l'end point è spento o perché il collegamento radio è caduto lato access point in questo caso quindi torna tutto in modalità off vale a dire zero logico e quindi la nostra lampada verrà spenta qualora il collegamento radio debba cadere. Se questa cosa non viene settata la lampada dall'altro lato rimarrà sempre accesa in quanto non c'è nessun settaggio di default alla perdita dell'interconnessione. Quindi è molto importante sapere anche che può essere configurato questa parte lato access point cioè lato dove viene configurata la parte di wired replacement. Effettuato questo andiamo a collegare gli apparati e testare la soluzione. ed ecco qui il nostro sistema da dover pilotare quindi la nostra lampada connessa ai PIN 4 e 6. Dall'altro lato invece avremo il nostro interruttore contatto pulito tra i PIN 11 e 12. Andiamo intanto a collegare il nostro interruttore al nostro end point. Perfetto. Adesso colleghiamo invece la nostra lampadina cablata sui PIN corretti sulla U-OUT 5 al nostro access point. Perfetto. Adesso vedrete che muovendo l'interruttore attiveremo l'accensione della lampada dalla remota tramite il collegamento radio del CN-Ritch. L'interruttore è stato attivato e come vedete la lampada risulta accesa. La cosa interessante è che nel menu di diagnostica dell'Io noi noteremo un cambio di stato sul nostro end point ogni qualvolta muoviamo l'interruttore. Vedete infatti che l'interruttore risulta in ON sull'Io numero 8. Se io spengo l'interruttore e faccio un refresh della pagina risulta in OFF e la nostra lampadina è spetta. Riaccendendo la lampadina si riaccende e il nostro interruttore ritorna su ON Che succede se si sgancia il link radio? Vi faccio vedere che succede se si sgancia il link radio. Stacchiamo per esempio l'antenna e simuliamo che sia caduto il link radio nonostante l'apparato si ON Vedete che le luci si spengono e l'interruttore dall'altra parte torna sul default ossia spento. Al ristabilire del link radio poiché lo stato è ancora ON il nostro interruttore torna su Se invece spegniamo nuovamente l'interruttore la lampada torna spenta Che dire con questo vi ringrazio e un saluto alla prossima volta